buongiorno abbiamo con noi la professoressa elena pulcini professoressa di filosofia sociale all'università di firenze che a performat conosciamo e seguiamo nel suo pensiero da anni l'autrice di molti molte opere preziose anche per noi psicologi dal potere di unire femminile desiderio e cura del 2003 alla cura del mondo da 9 fino a tra cura e giustizia uscita nel 2020 in quest'era della pandemia e abbiamo proprio desiderio di intervistarla a partire da queste ultime sue riflessioni molto utili e stimolanti per comprendere sia questo tempo che il tempo che verrà e al quale ci dovremo preparare buonasera buongiorno professoressa buongiorno a voi buongiorno a lei e mi dispiace per chi non vedrò ma insomma li saluto che è una delle delle cose che abbiamo imparato da questa pandemia in modo diverso di incontrarci e di entrare in comunicazione e per fortuna che ci sono devo dire ecco io in questo periodo apprezzo molto la tecnologia perché permette di fare tante cose che altrimenti non sarebbe stato possibile ma ora non parleremo di questo diciamo noi abbiamo dato al nostro convegno il tema del limite dell'orizzonte proprio ascoltando e leggendo il suo libro l'ultimo tra cura e giustizia e lei questa è la prima domanda ci ha parlato della necessità di accettare accogliere questa dimensione della vulnerabilità in cui ci ha condotto la pandemia ci può dire qualche cosa su questo suo concetto certo certo vulnerabilità appunto è un concetto chiave che tra l'altro io traggo anche da tutta una serie di interlocutori più o meno diretti e indiretti in particolare sicuramente particolare diciamo a partire dal femminismo insomma il pensiero femminista ha molto attraversato questa parola in molte diciamo in molti significati eccetera io devo dire un po lo rivendico me ne occupo appunto fin da da diversi anni già nel appunto nella cura del mondo quindi più di dieci anni fa io mi confrontavo molto ritenevo già questa questa parola molto feconda e che cos'è la vulnerabilità beh appunto allude al bonus no cioè allude al fatto che noi siamo sempre comunque esposti ad una ad una ferita no ad una ad un fallimento ad una perdita appunto ad una malattia a tutto ciò che in qualche modo è tutto ciò che è contrario all'ideale dell'io che ci facciamo soprattutto noi appunto moderni occidentali eccetera no cioè che abbiamo forgiato l'idea di un soggetto forte di un soggetto sovrano o razionale capace di progettare la propria vita del tutto come dire capace di perseguire il proprio interesse indifferente fondamentalmente individualista no e anche appunto egoista nel senso proprio letterale letterale del termine ecco tutto questo cozza no contro l'idea della vulnerabilità che però è una dimensione noi filosofi diciamo molto logica cioè dell'essere stesso in particolare dell'essere umano noi siamo esseri finiti e però ecco non recalcitriamo rispetto alla consapevolezza di questo dunque è molto importante diciamo ci sono state tante esperienze soprattutto negli ultimi 15 anni vent'anni insomma possiamo anche partire dalla dalla dalle torri gemelle tanto per no citare un evento un evento globale e così via poi molte esperienze che ci hanno ripresentato questo aspetto ma in realtà non è stato mai davvero come dire compreso sdoganato no non è stato mai accettato forse questa è la prima volta in cui un'esperienza davvero globale perché oggi nessuno può sottrarsi anche solo nella potenzialità anche se rimane un'isola deserta o semi deserta in cui la pandemia non arriva però può sempre arrivare quindi diciamo gli eventi in globali precedenti come la crisi finanziaria del 2008 o l'11 settembre così via erano comunque parziali questa è la prima volta che siamo davvero messi in causa a livello planetario e ce ne stiamo accorgendo e ce ne stiamo accorgendo con dolore con con ansia con paura e così via ecco quindi direi che appunto tutto questo ci deve insegnare qualcosa no ci deve insegnare qualcosa e ci deve insegnare che cosa fondamentalmente perché intanto a chiederci che cosa stiamo vivendo veramente no cioè che cos'è questa pandemia da dove viene perché e io trovo assolutamente sconcertante sul piano mediatico politico e così via che venga del tutto trascurato non voglio dire taciuto perché a volte è stato detto ma non è assolutamente in primo piano quella che è la sua causa fondamentale che è una causa uso la parola generale ecologica cioè noi sentiamo ogni giorno fare la contabilità dei morti ci tartassano continuamente con tutti i dettagli a volte a volte inutili a volte dannosi no a volte falsi e lo sappiamo bene ma molto molto non arriva mai in primo piano questo questo tema che è un tema fondamentale perché noi possiamo anche come di farci in quattro e in otto per risolvere questo problema sta succedendo i vaccini tutto il mondo che in qualche modo si da da fare così via ma se non risolviamo alcuni alcune sfide di base cioè sì possiamo risolvere questa in modo contingente ma poi questo tipo di sfide questo tipo di crisi questo tipo di minacce ormai sono sempre all'orizzonte e quindi dobbiamo imparare dobbiamo imparare dall'esperienza della vulnerabilità io quando è scoppiata la pandemia questo ripetuto più volte ci sono già anche delle dei miei interventi pubblici l'avrete forse già sentito insomma cioè io mi sono detta ma ben venga la paura ben venga la paura se ci può fare se può determinare un momento di arresto rispetto a questa corsa folle verso non sappiamo più che cosa e ci fa riflettere rispetto alla necessità di un'inversione di rotta insomma no? sì lei ha parlato della paura come passione del limite sì sto alludendo esattamente a questo no? Cioè lei mi conosce come ho visto quindi sa bene che le passioni sono uno dei fili rossi un po' della della mia preoccupazione della mia riflessione e la paura è stata centrale in tutto il mio percorso proprio perché appunto già ai tempi della cura del mondo era emerso questo questo nodo così importante cioè il fatto che noi rispetto a certe sfide che pure sono globali urgenti e assolutamente ormai ormai sempre più evidenti non proviamo paura non proviamo paura e per questo che poi non parliamo delle cause della pandemia dalle deforestazioni all'inquinamento a tutto ciò che in qualche lo spillover abbiamo imparato questa parola il salto di specie che è quella cosa che succede quando come dire fai terra bruciata nelle foreste quindi gli animali poi vanno i virus non rimangono più lì ma per l'appunto saltano da una specie all'altra e il problema appunto è che tutto questo non ci fa paura ma ecco tornando al primo periodo della pandemia io mi sono detta meno male no? Cioè meno male nonostante meno male non meno male cioè insomma siamo in questa terribile esperienza però ben venga sfruttiamola accogliamo la chance che c'è in questa esperienza e c'è stata tutta una prima fase in cui sembrava che la cosa funzionasse c'erano appunto anche risposte inedite di solidarietà no? Di reciproca comunicazione di alleanze i canti sui balconi insomma tutta una serie di segnali no? e poi però cosa è successo? È successo che nel momento in cui le cose si sono riaperte siamo stati preda di un infantilismo spaventoso per cui bene tutti fuori tutti in piazza tutti a festeggiare perché insomma eh ne abbiamo bisogno ma perché eh ma come si fa e con questa rivendicazione no? Con questa rivendicazione non si sa bene neanche contro chi cioè sono stati costruiti i capri espiatori no? Prima i colpevoli no? Dai cinesi in là noi stessi per l'appunto ehm il governo eh o quel determinato partito o che so io insomma no? Abbiamo costruito di volta in volta capri espiatori per pur di non vedere eh la realtà perché evidentemente è una sfida probabilmente troppo grande no? Cioè è come se questo lo sapete voi meglio di me quindi un filosofo che io ho molto amato che è Gunther Anders del novecento tedesco appunto diceva la nostra psiche può come dire eh tollerare l'idea della morte di una persona ma non può neanche concepire l'idea della morte di centinaia di persone tanto per fare un esempio no? che però poi queste cose sono avvenute perché voglio dire no? E non parlo solo dell'olocausto centrale no? Cioè ci sono stati tanti olocausti quindi è stupefacente no? Cioè noi facciamo queste cose le provochiamo siamo capaci di di gesti dire atroci e dir poco no? Che in qualche modo non lo so la nostra coscienza il luminista non si ribella più di tanto e però poi è come se non fossero avvenuti no? È come se appunto noi non fossimo responsabili di niente e ci comportiamo appunto come delle vittime un po' recalcitranti per cui di fronte a quello che sta succedendo adesso insomma non vediamo l'ora e cito questa frase che come di io detesto di tornare alla normalità no? una frase che è una frase che è una frase che è una frase che è una frase che io detesto perché appunto noi non dobbiamo tornare alla normalità e quindi la paura ci dovrebbe indicare una paura sensata no? Una paura ben usata. Noi possiamo mettere in atto un buon uso della paura perché il buon uso della paura significa stare attenti all'allarme qual è il campanello d'allarme che la paura ci segnala e fermarci un attimo su quello e cercare di capire meglio per l'appunto no? Invece noi proviamo e anche qui non è a voi che devo insegnare questa distinzione noi proviamo più angoscia no? Cioè questa sorta di ansia depressiva paralizzante che ci fa o ci fa proiettare su altri la colpa del pericolo o ci paralizza no? e non ci mobilita e non ci fa rispondere appunto a quello che sta succedendo se non nella maniera specifica, contingente no? limitata diciamo. In questo senso la paura è una passione del limite perché appunto ci dovrebbe riportare alla percezione della nostra vulnerabilità. Sì, lei ha detto di recente niente sarà più come prima, dobbiamo prendere atto di questo no? E imparare da questa esperienza appunto. In questo apprendimento lei vede un ruolo particolare per le donne? Eh, bellissima domanda. Da un lato sì, nel senso che appunto le donne hanno da sempre una maggiore familiarità con, beh sicuramente con tutto ciò che riguarda il corpo e anche con tutto ciò che riguarda il corpo sofferente e la cura per l'appunto diciamola la parola, no? Del corpo sofferente e così via. Dunque le donne hanno loro malgrado oppure per loro fortuna direi che sono vere entrambe le cose, hanno imparato diciamo questo aspetto, hanno imparato a muoversi in questa dimensione della realtà che gli uomini trattano in maniera se vuole più, come dire, risolutiva, razionale, strumentale, tecnica, tecnica. E quindi diciamo, io sono convinta che le donne abbiano una marcia in più da questo punto di vista. Sia chiaro, parlo di donne che in qualche modo si riconoscono nella loro, dico una parola grossa, natura di donne, perché ci sono donne che sinceramente vanno da tutt'altra parte, insomma, no? Sono molto più interessate alla mimesi del maschile, se vogliamo metterla così. Ecco, le donne invece non interessate a questo, se non per giuste rivendicazioni, sono quelle che un po' questo bagaglio ce l'hanno un po' nel loro DNA e però bisogna stare attenti, però bisogna stare attenti perché questa, diciamo, qualità del femminile che peraltro è stata usata dal maschile, dalla cultura patriarcale per in qualche modo marginalizzare sia le donne che la cura, ecco, facendole diventare le uniche depositarie, no? Di questa dimensione della realtà, eccetera, è appunto può essere, è stata penalizzante, perché l'identificazione delle donne con la cura, con l'attenzione, cioè con tutto quello che stiamo dicendo, no? Con la sensibilità verso l'altro, con l'apertura, con la relazionalità e così via, beh, le ha fondamentalmente escluse dalla sfera pubblica, certamente, ma anche a lungo dalla sfera professionale, tranne alcune eccezioni, no? Io cito sempre, tra l'altro, uno dei miei filosofi amati, perché poi per altri versi lo amato Jean-Jacques Rousseau, Rousseau è, come dire, il promotore di questa immagine della donna, qui lui tra l'altro crede fortemente, cioè la vede come una complementarità, ma io la riassumo così, no? Secondo Rousseau gli uomini agiscono e le donne amano, e quindi è come se lui ci regalasse qualcosa, in realtà è un dono avvelenato. E quindi non è strano, no? Che soprattutto anche qui, se pensiamo alle immagini, le immagini non sono mai, appunto, irrilevanti, no? L'immagine dell'infermiera con la mascherina che gli resta stampata sul volto, o di tante altre donne, soprattutto del settore sanitario, nella prima fase, che sono state fondamentali proprio, no? Ok, benissimo, però contemporaneamente gli intervistati erano i maschi, no? I virologi, gli immunologi e tutti i grandi personaggi su cui naturalmente la satira politica ha anche giustamente messo l'accento e quindi, come potremmo dire, ci risiamo, insomma, no? Ci risiamo e dobbiamo assolutamente evitare questo. Ora, negli ultimi tempi questa cosa sta un po' cambiando, soprattutto grazie magari più a certe trasmissioni che ad altre e così via, ed è quello che dobbiamo fare, no? Cioè, non deve assolutamente esserci... Cioè, c'è una naturale tendenza a gerarchizzare, c'è poco da fare, e quindi bisogna stare sempre molto allerta. Per cui noi siamo investite in un'operazione molto difficile, da un lato conservare questa eredità, perché è un'eredità importante, preziosa, dall'altro però non farsene usare, strumentalizzare, e soprattutto confinare a questo. Silenzio che bisogna ritrovare e ritrovare, diciamo, uscire da quell'esclusione sia dalla vita pubblica che dalla passione, a cui le donne sono state relegate, no? Secondo questo modello tradizionale. Quindi si tratta di recuperare sia la possibilità della passione che la possibilità di contare e di imporsi nella vita pubblica. Ma secondo modelli, magari che non imitino, no? Il patriarcato, che costruiscono qualcosa di diverso. E proprio questo non è semplice. Stavo appunto per dirlo, ci tocca una cosa parecchio ardua, perché come al solito dobbiamo fare tutto insieme, insomma. Però sì, però sì, cioè noi, come dire, dobbiamo in qualche modo recuperare, no? Quello che ci è stato tolto, quindi quello che io chiamo il diritto alla passione e il diritto alla vita pubblica. Qui non entro più di tanto, perché sarebbe un discorso parecchio complesso, però mi basta. Il diritto alla vita pubblica è sotto gli occhi di tutti ed è evidente. Sul diritto alla passione, diciamo, rivendico una mia intuizione che poi ho portato avanti, perché, come dire, lì c'è un nodo molto grosso, no? Appunto le donne sono state identificate con quello che possiamo chiamare sentimento, che è una forma di affettività edulcorata rispetto alla passione. E questo è stato, diciamo, poi il veicolo di un certo tipo di famiglia, di un certo tipo di concezione dell'amore, in un certo tipo, diciamo, di relazione all'interno della vita intima, cioè mica cose di poco conto. Noi ce l'abbiamo segnato come un marchio a fuoco nel nostro immaginario, così come gli uomini ce l'hanno nel loro immaginario. Tanto che, appunto, quando ancora oggi, quando si sfugge, da qualche parte si sfugge a questo, rinasce, come ben vediamo, purtroppo rinascono forme di violenza spaventose, insomma. Il risentimento maschile è tutto fuori oggi, è tutto fuori, verso l'autonomia emotiva delle donne. Cioè, paradossalmente, si sta accettando l'autonomia professionale, l'autonomia sociale, la possibilità di andare, essere libere, frequentare e così via, ma non l'autonomia emotiva. Noi non abbiamo il diritto di dire non ti voglio più, non ti amo più. Non so se vi siete accorti che la maggior parte di femminicidi, eccetera, non implicano un tradimento, implicano un abbandono. Essenzialmente un abbandono. Quindi l'incapacità di tollerare proprio la dichiarazione io non ti amo più, non conti più niente per me. Questo è evidentemente intollerabile. Naturalmente questo è il volto deforme di questa soggezione, assoggettamento secolare delle donne e così via, che naturalmente sta cambiando, eccetera, però ci dice cose, ci dice cose come tutti gli estremi, insomma, no? E poi lo vediamo in forme meno atroci, in tutta una serie di comportamenti, azioni, linguaggi del sociale, di cui quasi non ci si rende conto, insomma, no? Ecco, in particolare i nomini, ma a volte noi stessi, insomma, quando diventiamo complici di tutto questo, inconsapevolmente complici di tutto questo. E quindi potremmo dire quando alimentiamo come donne quella scissione che rende l'uomo bambino egoista la donna oblativa e altruista, quindi quando diciamo in questa relazione facciamo noi stessi dei danni. Assolutamente sì, diciamo tutto questo va rifiutato come stereotipo, questo è il punto, che non vuol dire buttare via il bambino con l'acqua sporca, cioè se io dentro di me ho maturato, anche grazie a delle rinunce, una familiarità con ciò che è relazionalità, empatia, cura e così via. Beh, me la tengo stretta in realtà, però devo avere la capacità di appunto coniugarla con altri diritti, per l'appunto. Qui entra proprio anche il nesso tra cura e giustizia. Cercare di preservare questo patrimonio che ci ha rese in qualche modo, come dire, custodi di qualcosa che è stato espunto anche per lo più dalla sfera pubblica, dalla sfera professionale e così via, e che appunto dobbiamo essere capaci di conservare senza cedere nulla, potremmo dire appunto sul piano della giustizia, cioè preservare la cura senza nulla cedere sul piano della giustizia. Quindi riconoscimento dei diritti, compreso il diritto alla passione, compreso il diritto al tradimento, senza che tu mi uccidi. Lo sa che la legge sul delitto d'onore, io l'ho scoperto, non mi ricordo nell'ambito di quale ricerca, è stata abolita negli anni Ottanta. Tardissima. Negli anni Ottanta, quindi tardissimo, rispetto poi a tutta l'evoluzione. E quindi poi, insomma, si sa bene che non a caso le leggi sono sempre l'espressione del maturare della coscienza, insomma, no? E però allo stesso tempo diciamo non è automatico l'inverso, nel senso che una certa maturazione della coscienza porta a fare una legge, però poi non è che quella legge cambia davvero le cose, se appunto in prima persona noi non continuiamo. La rivoluzione delle donne è una rivoluzione permanente, è assolutamente così. e non bisogna mai appunto davvero abbassare la guardia, insomma. Perché è la cartina di tornasole di come stanno andando le cose, no? Cioè, quando c'è un rapporto negativo con le donne vuol dire che qualcosa non va. Lei ha parlato di un arcipelago della cura, mi ha colpito questo termine, no? Che ha utilizzato. E anche l'idea che la cura, e il dono, siano concetti connessi. Eh, questo è un tema enorme. Diciamo che sono sicuramente connessi, si potrebbe dire che la cura è l'esempio per eccellenza del dono, no? Nel senso che è proprio la pratica nella quale più intensamente si manifesta il dono, al di là, diciamo, delle sue declinazioni più puntuali, no? Come fare un regalo, oppure un dono anche d'amore, o insomma, o anche il dono agli sconosciuti, eccetera. Beh, la cura, ci sono tante forme di dono, no? Ma nel momento in cui entriamo nell'universo della cura, ecco, noi facciamo un salto, no? perché non è più appunto una dimensione contingente, puntuale, limitata ad un atto, ma è un'attitudine per l'appunto, no? Che è qualcosa di diverso. E beh, appunto, io richiamo sempre l'etimologia della parola, della parola. Intanto, sì, rispondo un attimo alla domanda sull'arcipelago, appunto, perché ci sono infinite forme di cura. Io ho provato anche un po' a tematizzarle, anche nell'ultimo libro, partendo appunto dalla cura per amore, C'è dalla cura che noi facciamo verso i nostri cari, verso le persone che amiamo, e poi c'è la cura, beh, la cura, diciamo, la cura che è oggi sta emergendo. Io ho mille sollecitazioni in questo periodo. Tu festival sulla cura, convegni sulla cura, dibattiti sulla cura, e le dico che è un tema che fino a qualche tempo fa non era così diciamo frequentato in particolare in Italia, molto di più in ambito anglosassone, da dove poi nasce, no? La riflessione sull'etica della cura e così via in Italia, meno e adesso è stata sdoganata totalmente proprio in virtù della pandemia, quindi è evidente che la prima forma di cura a cui oggi pensiamo è quella che io chiamo la cura assistenziale, quindi la cura del corpo, la cura della malattia, la cura del disagio, in tutte le sue infinite forme, insomma, ed è oggi in questo momento noi la sentiamo come assolutamente fondamentale, ma appunto qui questo è molto importante e anche molto bello che venga riconosciuta la dignità di questa forma di cura e il valore di questa forma di cura. Noi siamo partiti dicendo siamo ormai immersi in un mondo virtuale, tecnologico, facciamo quasi più niente in presenza e meno male che questo mondo c'è e così via e poi c'è questo risvolto in contemporanea dove c'è come dire l'espressione più concreta che più concreta non potrebbe essere della corporeità e di tutto quello che la corporeità vuol dire. Pensiamo solo per un attimo se appunto non ci fossero i care givers, no? Cioè tutte le persone che prestano cura in questo periodo che per lo più rimangono appunto invisibili, no? Al di là dei virologi di fama e così via, no? Chi presta quotidianamente cura e allo stesso tempo pensiamo come faremmo se non fosse così? Quindi questo vuol dire che il corpo ha, conserva, ma meno male per certi versi una sua centralità e una sua importanza enorme pur all'interno di questo mondo che si virtualizza per l'appunto, no? E molta di questa di questa pratica è tuttora affidata alle donne, no? Che lo fanno a volte anche appunto con passione, che lo fanno con empatia, eh? Questo è un po', questa poi è l'altra parola importante, no? Perché dono e cura, io sono decenni che cerco di sottrarli a tutte le retoriche del buonismo, dell'altruismo, per esempio è una parola che mi piace pochissimo e cerco di far vedere come siano dimensioni assolute del sé, cioè dimensioni imprescindibili del sé, insomma, no? Che appunto partono dalla consapevolezza della nostra vulnerabilità, della nostra finitezza, della nostra imperfezione, eccetera, no? E quindi da questo punto di vista diventano, come ho detto più volte, due concetti, se uno li interpreta in modo giusto, due concetti assolutamente rivoluzionari, perché sono proprio le due dimensioni espunte, no? Dalla nostra cultura, la dimensione appunto dell'attenzione e della sollecitudine e allo stesso tempo la dimensione della gratuità, che per noi è diventata una cosa quasi impensabile. Per esempio, ci ha colpito, a me ha colpito moltissimo, hanno colpito moltissimo i gesti che, soprattutto fino a poco tempo fa, ora sono un po' spariti, appunto di gratitudine verso il personale sanitario e così via, perché la gratitudine è davvero una delle passioni che abbiamo completamente perso. Noi non siamo più grati a nessuno, noi abbiamo solo pretese, siamo narcisisti patologici, insomma, abbiamo solo pretese e quando queste pretese non vengono soddisfatte diventiamo i bambini che sbattono i piedi per terra come tanta gente adesso fa dicendo ah ma basta ma insomma ma che è? Noi vogliamo noi vogliamo ma cosa? Ma cosa volete? Il diritto all'aperitivo. Come? Il diritto all'aperitivo sembra. La cosa ecco è veramente spaventoso cioè in questa immane tragedia che ci siano appunto queste forme di infantilismo che tra l'altro appunto emergono sempre di più purtroppo perché passata l'emergenza non siamo più in grado di reggere la difficoltà insomma. Quindi diciamo che politici insegnanti psicologi dovremmo lavorare molto da questo punto di vista per intervenire sulla mente sulle relazioni c'è veramente tanto da fare? E direi tutti coloro che possono fare qualcosa diciamo in modi diversi io per esempio lo faccio anche attraverso queste forme di comunicazione voi lo fate addirittura attraverso anche un tet a tet con con l'anima delle persone insomma il punto di fondo quindi sicuramente siete in prima linea da questo punto di vista perché? Perché io sono convinta che noi abbiamo assolutamente bisogno in modo radicale di un cambiamento antropologico questo è il punto un cambiamento ma proprio come dire di una platonicamente l'ho chiamata una vera e propria conversione cioè noi dobbiamo girarci dall'altra parte rispetto a quella verso cui siamo girati insomma che è quella appunto dell'interesse dell'amidità dell'ignoranza dell'indifferenza e così via dobbiamo fare proprio una volgere lo sguardo dall'altra parte verso la consapevolezza verso appunto la coscienza della vulnerabilità e tutto quello che abbiamo detto finora e la psiche deve essere educata a questo può esserlo in più in tante forme può esserlo attraverso ahimè lo dovrebbe essere attraverso la famiglia che mi sembra l'agenzia più disastrata che c'è oggi lo può fare la scuola lo possiamo fare noi anche a livello più adulto lo potete moltissimo fare voi soprattutto appunto se diciamo come un po' mi diceva all'inizio si esce un po' no? dal setting privatissimo no? individuale in qualche modo quasi scisso no? da quello che succede nel mondo e si riporta invece appunto la psicologia la psicoanalisi eccetera dentro il mondo dentro il mondo cercando in primo luogo di capire quali sono le patologie che oggi emergono con forza insomma siamo in una fase siamo in una fase di passaggio ancora non lo sappiamo ma insomma quando Freud teorizzava l'isteria e la colpa e poi negli anni 70 dalla colpa si è passati all'ansia no? e poi successivamente con la esplodere dell'età globale alla centralità dell'angoscia eccetera e insomma sono tutte cose che non dobbiamo mai perdere di vista e che secondo me per voi sarebbe estremamente anche fecondo tenere presente no? diciamo questa socialità della psiche è imprescindibile e lo è tanto più oggi in cui il sociale ci invade in forme anche violente in forme inedite in forme che non siamo preparati a ricevere insomma e quindi dobbiamo prepararci a riceverlo velocemente perché appunto le cose stanno non stanno andando molto bene perché appunto noi per tornare all'ecologia insomma noi abbiamo 10 anni 15 boh forse meno non per invertire la rotta che forse non è più possibile ma per porre un po' di riparo insomma per tentare di rimediare ad alcuni danni enormi che abbiamo fatto al pianeta noi stessi e così via cercando anche proprio di sfidare ecco un'altra cosa che su cui secondo me la psicologia ha molto da dire da fare è il fatto che ci troviamo di fronte a questo paradosso cioè l'umanità sta andando verso l'autodistruzione e non se ne rende conto e non fa niente per evitarlo e non lo vede i giovani cominciano alcuni giovani cominciano a vederlo non a caso c'è questo gruppo oltre ai Fridays for Future c'è questo gruppo che si chiama Extinction Rebellion no? cioè la consapevolezza dell'estinzione che giustamente parte più dai giovani però è diciamo è una e non so appunto cosa lei ne pensa cosa voi ne pensate ma è una dimensione psicologicamente sconcertante perché appunto naturalmente poi si spiega attraverso io ho fatto riferimento e continuo a pensare che sia un concetto fondamentale in tutto questo che è il concetto di diniego che non è appunto la rimozione ma è il sapere 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 cosa sta succedendo perché leggo perché sto su webinar perché ascolto il telegiornale perché 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 siamo nella società dell'informazione e allo stesso tempo però tutto questo è assolutamente inefficace quindi secondo me ne avete delle cose da dire e da fare così come ecco ne abbiamo noi per esempio chi ha a che fare con giovani no in un altro modo con altri strumenti con altri linguaggi io penso che ognuno potrebbe fare la sua parte e che sia assolutamente necessario farlo sì noi diciamo a Performat che vogliamo lavorare per un'ecologia nei rapporti sociali è il nostro sottotitolo e conclusiamo 20 anni fa e lavoriamo moltissimo perché la terapia sia principalmente anche una terapia di gruppo proprio perché quello che lei diceva l'essere con l'altro ci sembra l'apprendimento più necessario oggi cioè le patologie che ne osserviamo di più sono tra il narcisismo e la paranoia cioè quindi sono anche complementari se non sbaglio di cui c'è appunto questo io fragile vulnerabile che non riconosce l'altro o questa situazione di nuovo di estrema diffidenza no? per cui questa diffidenza paranoica appunto c'è un nemico esterno no? il male il nemico viene portato all'esterno e quindi dai cinesi ai pipistrelli al governo a chi cattivo ci rinchiude in casa avendo generato no? anche un virus che non esiste perché c'è chi continua a pensare che questo sia un modo per controllare le folle no? quindi insomma io paradossalmente a volte mi sono lasciata andare a dire magari fosse così cioè il guaio è che la globalizzazione è proprio diciamo che l'età globale è proprio un'età fuori controllo il nostro problema è esattamente questo tranne ecco qualche toppa messa lì per lì in modo contingente quindi insomma tutto questo è veramente è l'assurdo no? di quest'epoca che però si spiega lei l'ha appena l'ha appena spiegato insomma no? appunto questa specularità no? complementare tra narcisismo e paranoia insomma no? sì identità fragili ma allo stesso tempo onnipotenti no? per l'appunto che poi proiettano al di fuori di sé tutti i mali del mondo insomma no? proprio perché sono assolutamente privi di strumenti per capirli per affrontarli perché appunto siamo completamente come dire lobotomizzati dalla società del benessere dall'ideologia anche del benessere insomma e tutto questo attraverso diciamo come dire quello che a me interessa sottolineare sono perfettamente consapevole poi in quanto filosofa che in tutto questo no? dobbiamo confrontarci con i grandi poteri che sfruttano che rapinano che saccheggiano e così via ma a me interessa sapere come mai non glielo permettiamo mi interessa sapere cosa centriamo noi in tutto questo e come mai in maniera più o meno diretta più o meno consapevole noi stiamo dando da molto tempo la nostra complicità e la spiegazione diciamo qui la psicologia appunto ha una funzione fondamentale insomma lo facciamo perché siamo dei narcisisti ormai irredimibili insomma no? perché appunto queste sono le dinamiche oggi della nostra psiche esasperate rispetto anche agli anni 60-70 Christopher Lash scriveva la cultura del narcisismo negli anni 70 si può immaginare insomma ormai 50 anni fa però adesso è esplosa questa patologia è diventata appunto planetaria individuale del potere del potere pensi al potere pensi al narcisismo del potere politico alle scene penose a cui stiamo assistendo e così via quindi altro che se c'è da e io infatti sostengo che la filosofia dovrebbe assolutamente contaminarsi con la psicologia con l'antropologia con la sociologia oggi non possiamo più perseguire saperi specialistici di questo io sono convinta per non parlare delle scienze esatte di quello che le neuroscienze ci dicono rispetto all'empatia o rispetto non possiamo più stare dentro caselle purtroppo nel mio nel mio settore nel mio ambiente di caselle ce ne sono tante e noi invece vogliamo lavorare per contaminare i pensieri e le tassioni ok grazie professoressa è splendido parlare con lei mi fa un pensiero mi fa passare da una stanza all'altra sono stanze che danno respiro questo mi fa molto piacere è davvero come dire sempre stato un po' il mio aspetto che io chiamo militante e tanto più adesso tanto più adesso perché ne sento assolutamente proprio il bisogno è un modo anche per sentire che uno riesce a fare il suo piccolo qualcosa per comunicare per svegliare per poi magari non servirà a nulla ma ci proviamo proviamo e quindi tra cura e giustizia tra cura e giustizia assolutamente sì allora vi convivo grazie